Harry contro Re Carlo, l'incredibile accusa principe al papà, mi ha traumatizzato. Durante un'intervista con l'esperto di traumi Gabor Mate, il principe Harry ha parlato dell'importanza degli abbracci e di come la mancanza di contatto fisico nella sua infanzia sia stata un errore. Harry ha dichiarato che se non avesse abbracciato i suoi figli, Archie e Lilibet, avrebbe avuto un impatto negativo sulla loro crescita, simile a quello che ha sperimentato lui. La conversazione si è concentrata sul tema del trauma e della guarigione personale, ed è stata organizzata per promuovere il libro di memoria di Harry, Spare. Durante la conversazione, il dottor Mate ha sottolineato l'importanza di essere abbracciati e compresi, qualcosa che, secondo lui, Harry non ha ricevuto nella sua educazione. Harry ha parlato anche della sua relazione con Meghan Markle e di come lei gli abbia dato la forza di superare il trauma. Il duca di Sussex ha anche parlato della sua volontà di ricostruire il rapporto con suo padre e suo fratello. Foto, Kika Press Music, Summer from Benson, leggi anche, Nostradamus, la profezia sua rifa tremare il trono, cosa accadrà a Carlo prima della sua incoronazione e al fratello William. Grazie. 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 Grazie.